Ecco qui la nostra cara amica Louise. Louise è stata operata l'8 maggio, quindi quasi due mesi fa. Louise è tornata qui per il controllo e adesso, se vuole, ci dice un po' com'è la sua situazione, ci parla un po' della sua situazione. Io posso dire tutto è migliorato, tutto è migliorato. La mia vita, anche i miei figli dicono mamma sei molto meno irritabile, perché l'estate per loro era sempre, anche per me, era sempre un periodo di irritazione, perché io quando non sopportavo più niente, soprattutto il caldo, le stanchezze è molto di meno, improvvisamente posso fare una passeggiata, posso fare le spese, le cose della vita quotidiana che normalmente durante l'estate non potevo fare. Io posso consigliare a tutti di fare l'operazione, anche se non è stata molto sostenuta durante, il dottor Caragano è una, secondo me, una bravissima persona, anche come non dice niente che ha un effetto, però ti dà molte speranze come puoi migliorare, come puoi vivere bene le tue disturbi o malattie. Qual è il sintomo che ti è migliorato di più, Louise? Stanchezza, stanchezza, anche la parte destra posso muovere tranquillamente, ma mi sento anche mentalmente, sono molto molto migliorata, molto più contenta, molto più... C'è qualcosa che non facevi da tanto tempo che adesso fai? Saltare. Saltare? Come mai salti? Sì, perché a vent'anni non ho potuto, anche sul posto, però non saltava. Un'altra cosa è che posso salire le scale senza sostegno, posso portare le spese in tutte le due mani, posso suonare al pianoforte con tutte le due mani, che non l'ho fatta da due anni. Tu hai un accento che non è italiano? Sono holandese. E suonare il pianoforte? Adesso con entrambe le mani? Sì. Prima? Era per cantare lirica, perché canto e... Utilizzavi solo quale mano? La destra o la sinistra? Ah, solamente la sinistra. Adesso tutti due, o la destra. Bene, bene, Louise. Tu dovresti tornare tra sei mesi, più o meno, per il secondo controllo. Se vorrai, potrai di nuovo aggiornarci sulla tua situazione, in modo tale che chi ti ascolta può appunto seguirti nel tempo, seguire nel tempo la tua evoluzione. Benissimo. Non è assolutamente credere a quello che funziona o non funziona. Penso anche scientificamente, io sentivo subito un miglioramento. Perché aveva, anche il dottor Cargano, ha detto, ma io non ho mai visto una situazione così desastrosa come la tua. Lui è intervenuto sulle giugulari o anche sull'Azigos? Tutti tre. Anche sull'Azigos? Tutti tre. Mi ha detto molto chiaramente durante l'intervento che questa per lui era una cosa rara di vedere così. Ma anche durante l'intervento ha mantenuto sempre un attentiamento molto allegro, molto, comunque, molto, come posso dire? Ti ha messo a tuo agio. Sì, assolutamente. Va bene Luisa, allora io ti aspetto tra sei mesi e ti auguro di continuare a migliorare. Grazie, grazie tantissimo. Ciao.